Questa è la sessione di Ecofuturo, ricominciamo le nostre dirette video, ringraziamo innanzitutto la regia guidata da Sergio Ferraris, dall'altro Ferraris, da Elena Pagliai, da Sauro Secci, da Mauro Dal Poz, da Simone Canova che si sobbarcano un enorme e straordinario lavoro. Voglio ringraziare anche Duccio Braccaloni, Paolo Mattesini ed altri volontari, sicuramente ora me ne scordo qualcuno e faccio la consueta figura barbina. Ma in particolare io devo ringraziare Alfredo Albiani perché si è sobbarcato, nonostante come si dice un momento importante e significativo della sua vita, anche perché essendo invecchiato parecchio e stai avendo ormai più di 60 anni, io ho partecipato al suo compleanno, affronta momenti importanti, belli e significativi ma ha voluto mantenere l'impegno di coordinare la sessione di Eco Salute. Per cui lo voglio ringraziare pubblicamente e anche scusarmi di qualche piccolo disguido organizzativo che alle volte purtroppo mi riesce anche a me avere. Però grazie Alfredo e procediamo. Grazie a te Fabio, sei un grande. I disguidi si risolvono perché educano a vedere il futuro in modo ancora più ampio. Ci tengo a Eco Futuro, ci tengo a questa striscia perché Eco Salute è nato con l'idea di propagare le tecnologie interiori, le tecnologie fitoterapeutiche, le tecnologie del movimento che sono una ricchezza che tutti noi abbiamo e possiamo condividere. Non solo dall'antico oriente, io sono esperto soprattutto di tecniche che vengono dall'India e dalla Cina, quest'anno sono 40 anni che insegno e quindi qualcosa abbiamo visto, abbiamo ottenuto e abbiamo con noi persone che sicuramente sono di elevato spessore, vedrete stasera che abbiamo portato. Scherzando dicevo a Fabio che oggi sono 45 anni che è morto Bruce Lee. Quando io avevo 15 anni, nel 73, per me Bruce Lee era un punto di riferimento, non ce ne erano molti. Perché era un punto di riferimento? In un suo film, il primo, dalla Cina con furore, a un certo punto nel film viene detto che il Kung Fu non è per fare combattimento ma è per crescere interiormente. Questa è diventata la frase che ovviamente mi ha attratto alle arti cinesi perché già avevo sperimentato, ero andato a vedere karate e il judo e non avevo considerato fossero adatte per me, almeno per la mia mentalità. E da quel momento diciamo che Bruce Lee è stata la mia apertura. Sicuramente un attore, un personaggio di cui ho sentito da altri cinesi che lo hanno conosciuto, sono stati con lui da molte sfaccettature e con la fine anche del figlio Brandon che non si sa come lui, come mai sono morti in quelle situazioni. Comunque, va bene, è una parte della mia infanzia che ritorna oggi e quindi mi ha fatto piacere condividere. Stasera abbiamo con noi il dottor Pietro Mascheri, fitoterapeuta ed è uscente all'Università Popolare di Arezzo e del San Raffaele di Roma che invito qui accanto a me che ci parlerà, penso, della salute e malattia. Grazie di essere venuto, piacere di rivederti. Sì, adesso dopo il temporale, c'è stato un temporale molto bello, forte, comincia a far caldo e ribolle tutte. Per favore, noi condividiamo su Facebook o dalla pagina di Jacopo Fosse e per favore anche voi condividete in maniera che venga aperta e propagata la nostra sessione. Prego Pietro, grazie. Allora, grazie a voi e grazie dell'invito a Fabio Roggiolani, a Sarosecci, a tutto l'establishment di Ecofuturo per questo invito, già una seconda volta, sono già venuto a Rimini. Questa che stasera andremo a presentare è la salute e la malattia. Noi ci dibattiamo fin da quando lasciamo fra la salute e la malattia, è giusto? Noi possiamo parlare di tutto e quindi dall'ecosalute, dall'ambiente, eccetera, però quante volte noi avremmo detto o diciamo basta la salute? Pensateci un po', ma quando lo diciamo basta la salute? Noi diciamo basta la salute quando non ci è andato bene qualcosa, quando abbiamo perso o ci è andato male un affare, allora diciamo ma chi se ne frega basta la salute. In realtà bisogna sapere che cos'è la salute, che cos'è la malattia, perché ogni terapeuta quando ha presente una persona che sta male, la prima cosa deve sapere che cos'è la salute, perché se non sa che cos'è la salute allora non può curare il nostro soggetto, il nostro individuo, non so se va bene, dove, io, così, a queste laterali, questa non fa, questa non fa, questa non è meno, allora è chiaro che l'organizzazione mondiale della sanità che cosa dice? Dice che la salute è uno stato di benessere, che non è detto che ci sia soltanto l'assenza di malattia o di patologie o di infermità, ma è uno stato di benessere psico, fisico ma anche sociale, cioè che significa che nell'ambiente in cui viviamo noi abbiamo un buon rapporto con l'ambiente, abbiamo un buon rapporto con il nostro diciamo interlocutore, abbiamo dei processi di interazione umana sociale che ci accontentano perché altrimenti quando non c'è questo potrebbe venire fuori appunto la malattia. E quindi questo è una cosa molto importante. Allora ecco che se la salute è l'equilibrio psicofisico è chiaro che quando ci allontaniamo da questo equilibrio, da questa armonia andiamo verso la malattia e quando è che ci andiamo verso la malattia? Ci andiamo appunto e noi ci accorgiamo, ci accorgiamo che non va bene, ci accorgiamo che ci sentiamo qualcosa, ma quante volte diciamo passerà, passerà, no? Poi in realtà andiamo avanti e dopo diverso tempo il nostro organismo si presenta il conto perché noi siamo abituati al sintomo, a curare il sintomo. Allora la nostra medicina cura il sintomo o no? Noi andiamo dal medico quando non ne possiamo più e diciamo dottore mi stronchi questo, mi stronchi quest'altro, siamo anche un po' autolesionisti. E allora è chiaro che il sintomo non vuol dire guarire, il sintomo non è altro che una spia nel nostro organismo, è come nella macchina quando ci compare la spia rossa e noi andiamo dal meccanico e se il meccanico ci apre il display e ci toglie la lampadina rossa e ci ridà la macchina è chiaro che la spia rossa non la vedremmo più ma la macchina dopo pochi chilometri si fermerà. E così noi quando eliminiamo il sintomo, la nostra medicina è una medicina sintomatica che porta all'eliminazione del sintomo e difficilmente arriviamo appunto alla causa. Allora il sintomo non è altro che un meccanismo di difesa del nostro organismo che ci serve anche per fare una diagnosi perché se uno va da qualsiasi terapeuta e dice dottore io non sto bene e il dottore vi domanda ma che cosa ti senti? E dice no non mi sento niente. Come si fa a fare la diagnosi? La diagnosi si fa proprio per il sintomo, è chiaro ma si va dopo a individuare appunto la causa perché eliminare il sintomo vuol dire star bene per l'effetto che fa il farmaco in un determinato periodo, passato quello il sintomo ritorna perché la causa non l'abbiamo eliminata. Allora questa spia rossa bisogna cercare di monitorarla, di conoscere noi stessi come diceva Socrate 300 anni prima di Cristo, diceva conoscere noi stessi perché è evidente che noi conosciamo i messaggi che il nostro organismo si invia quotidianamente, a quel punto possiamo arrivare alla causa. Ma come si fa ad arrivare alla causa? Punto interrogativo? È facile, l'uomo crea la malattia, noi creiamo la malattia ma da quando? Da quando ci alziamo la mattina quando andiamo a letto la sera? Giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno? Perché la malattia avviene non subito ma avviene dopo anni magari come i tumori e creiamo appunto la malattia. E allora bisogna andare a vedere che cosa? Bisogna andare a vedere il nostro stile di vita. Ma la nostra medicina purtroppo è insufficiente, è insufficiente perché il medico di base non può farvi un colloquio perché c'ha 20-30 persone in ambulatorio. Quindi non vi può appunto interrogare e attraverso il colloquio vedere che cosa voi fate quando vi alzate la mattina a quando andate a letto la sera. Se bevete un caffè accendete una sigaretta e andate a fare i duelli all'ultimo sangue, ai semafori, adesso alle rotatorie. Perché? Perché è chiaro che a quel punto il nostro organismo crea una serie di reazioni che piano piano porta alla malattia che adesso vedremo. Tant'è che se noi andiamo avanti vediamo che i sintomi e le cause. Ci sono due branche della medicina che studiano queste cose qui. La prima è l'apnei, cioè la psico-neuro-endocrino-immunologia che crea tutte le malattie che derivano da che cosa? Dal nostro sistema endocrino, dal nostro sistema nervoso centrale che poi è sistema autonomo, sistema simpatico eccetera. Queste sono le malattie che crea il nostro sistema immunitario. Poi ci sono anche la famosa epigenetica che cosa studia? Studia il cambiamento del DNA che non però interessa l'ereditarietà ma che interessa il nostro stile di vita. Tant'è che i ricercatori oggi dicono che l'80% di malattie dipendono, sapete da che cosa? Da che cosa dipendono? Dal nostro stile di vita, non dall'ereditarietà. Una volta si pensava che tutto fosse ereditarietà. No, oggi è la familiarità perché nella famiglia obesa ci sarà il bambino obeso perché ha le abitudini di vita della famiglia, quindi il modo di mangiare della famiglia e quindi non è ereditarietà ma è familiarità. Allora è chiaro che quando sappiamo queste cose dobbiamo andare a vedere le malattie oggi, di che cosa si muore oggi. Voi pensate che oggi 70 persone su 100 in Italia muoiono di due malattie fondamentalmente, la prima di tumore il 35,19%, queste sono le ultime statistiche fatte dal Ministero della Salute e della Sanità nel 2012 e un 34,9% muoiono di malattie cardiovascolari, cioè di ictus ed infarto, ma sono morti che sono quasi annunciate, soprattutto quelle dell'infarto dell'ictus. Le malattie cardiovascolari noi sappiamo che dipendono dal nostro stile di vita, da quello che facciamo, dalla sindrome metabolica, dal diabete, dall'ipertensione, dalla lipidemia. È chiaro, è una morte annunciata dall'obesità, dalla sedentarietà, dall'eccesso di cibo. E allora noi lo sappiamo, ma si può fare qualcosa? Si può fare prevenzione? E allora il nostro Stato fa prevenzione? Noi facciamo prevenzione. Noi abbiamo creato con le industrie farmaceutiche, con le multinazionali del farmaco abbiamo creato la cultura della malattia, ok? Cioè io ho il diabete, ho l'ipertensione, ho la dislipidemia, ma chi se ne frega? Tanto c'è la pasticca per il diabete, c'è la pasticca per l'ipertensione e c'è la pasticca appunto per la dislipidemia. Quindi mangio, bevo, faccio di tutto e non me ne frega niente di quello che... Questa è la cultura della malattia! Ma allora in questi festival dell'Ecofuturo bisogna cercare di instaurare la cultura della salute. Invece instaurare la cultura della salute però bisogna andare fin dalle scuole materne. Oggi sentito stamattina quando sono arrivato che si parlava di scuole, che si parlava di interventi alle scuole. Io sono 25 anni che vado nelle scuole a parlare di ambiente, a parlare di rispetto dell'ambiente, perché io sono un fitoterapeuta, curo con le piante medicinali da 30 anni, è chiaro che se l'ambiente la ovveleniamo è evidente che crolla tutto quello che sto dicendo io, perché le piante medicinali chiaramente crolleranno. Ora chi ha creato il mondo, che può essere il padre eterno chi che sia, ha creato anche per ogni disturbo una pianta medicinale in grado di poterlo curare, perché ci sono tutte le piante per poter curare ogni patologia. Io potrei stare qui a parlarvi per tre giorni di queste cose qua e vi dico che ci sono. E allora perché non utilizzare un ambiente sano, un ambiente biologico, un ambiente eco, diciamo sempre di più ecologico e quindi ma creando la cultura della salute fine dall'età più piccola, fine dalle scuole materne. E allora le malattie croniche sono una minorità come le malattie reumatiche, respiratorie, ipertensione, allergie eccetera, le cause di morte, l'80% lo stile di vita è l'ambiente, l'ambiente cari signori, l'ambiente in cui viviamo inquinato da polveri sottili, da piogge acide e da veleni che mangiamo tutti i giorni che respiriamo, l'anidride carbonica è stato detto e ridetto, ma soprattutto quello che è il cibo che noi mangiamo. E allora è chiaro che se queste sono le cause di morte lo stile di vita è evidente, vedete l'aumento di diabetici dal 2008 al 2011 sono aumentati quasi del doppio, da 2 milioni e mezzo in Italia siamo a 4 milioni e 8, nel 2011 oggi saremo sopra i 5 milioni. E allora eccole le malattie da dove derivano, vedete lo stress, lo stress continuo, che cos'è lo stress? Noi siamo tutti stressati, ma lo stress è positivo e negativo, io adesso sono sotto stress perché non vi devo dire le cavolate, vi devo raccontare le cose giuste, quindi i miei neuroni, i miei recettori a livello di sinapsi c'è uno scambio e quindi molto importante che è uno stress positivo, ma se io continuassi a parlare fino a domattina lo stress diventerebbe negativo perché lo stress si cronicizzerebbe e cronicizzando che cosa mi porterebbe? Mi porterebbe a lungo andare alla malattia e noi oggi siamo sempre sotto stress continuo perché non stacchiamo molte volte mai la spina da questo stress. E allora che cosa succede? Vedete c'è l'ipotalamo, l'ipotalamo che è il direttore di orchestra del nostro cervello, che cosa dice? Demanda questo stress a due sistemi, al sistema nervoso centrale da una parte, al sistema endocrino dall'altra, il sistema nervoso centrale dice vai c'è il sistema autonomo, sistema simpatico, parasimpatico, occupatene voi. E loro che cosa fanno? Se ne occupano, secernono l'adrenalina. Che cos'è l'adrenalina? Voi quando siete incavolati da pazzi, basta che fate così, con l'alito e sentite quell'alito aspro, quella è l'adrenalina, ma l'adrenalina è un vaso costrittore, è un vaso che distrugge le nostre coronarie e quindi a lungo andare, anche se i giovani vogliono essere adrenalinici perché l'adrenalina dà senso di emozione, però a lungo andare provoca l'infarto, non solo ma anche il tumore perché l'adrenalina è un vaso che crea infiammazione e nei recettori si è visto delle cellule tumorali c'è l'adrenalina. Dall'altra parte è ancora peggio perché il sistema endocrino attraverso la corteccia surrenale risponde all'ormone ACTH che è l'ormone adeno corticotropo ipofisario emesso dall'ipofisi e risponde con la segrezione di cortisolo. Il cortisolo che cos'è? È un salvavite, noi nella fase acuta prendiamo il cortisolo nelle allergie e nei bronchi spasmi eccetera, ma a lungo andare il cortisolo è un immunosoppressore, chi si cura sempre col cortisolo è uno che ha di difese bassi e allora se andiamo a vedere diminuisce col cortisolo i macrofagi che sono le nostre difese immunitarie del 90%, i linfociti del 70% e vengono attivati i linfociti T che sopprimono la reazione immunitaria. Quindi a lungo andare andiamo incontro a malattie immunitarie e a tumori. Eccole, le due malattie che fanno sì che la maggior parte delle persone, 70 persone su 100 in Italia muoiono di queste due malattie, tumori e infarto ed ictus. Sistema immunitario è questo qui, vedete i processi infiammatori, tutti noi comunque cerco di stringere, però se no la gente non capisce. Io se volete posso anche dirvelo in tre minuti, però io per rispetto del pubblico perché altrimenti anche in tre minuti le posso fare, mi posso parlare tre giorni o tre minuti però rispetto loro. Allora l'infiammazione, il processo infiammatorio che crea la malattia e l'abbiamo già detto con l'adrenalina le cellule tumorali. Vedete che l'adrenalina non solo aumenta la pressione, la glicemia eccetera, il cortisolo blocca l'insulina, aumenta la glicemia e diminuisce le difese immunitarie. Eccolo qua, l'infiammazione, il grande killer silenzioso, gli inglesi lo chiamano love leave chronic inflammation, cioè l'infiammazione va spenta e allora la fitoterapia con che può spengere? Ci sono le piante medicinali antinfiammatorie perché l'infiammazione non solo crea il dolore, crea la clonicità eccetera ma crea anche il tumore e poi lo vedremo. Allora bisogna spengerla con le piante medicinali. Curcuma, bosveglia, ribes nigro, artiglio del diavo, salice, cronoderma, zenzero, chi ne ha più ne mette. Il 90% delle malattie dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha un'origine infiammatoria dall'Alzheimer, dal Parkinson, dal diabete, dall'infarto, dall'ictus e dall'ipertensione. E allora ecco la malattia tumorale, vogliamo parlare di questo spauracchio che non è oggi più uno spauracchio perché i tumori fanno più paura, perché sappiamo da cosa derivano, sappiamo da cosa derivano, i fattori di rischio del tumore quali sono? L'eccesso di zuccheri perché la cellula tumorale è ghiotta di questi zuccheri, tant'è che per il tumore si fa una flevo di glucosio e questo glucosio va a finire appunto nel punto preciso dove sono i celluli tumorali. Poi lo stress ossidativo, i radicali liberi, l'abbiamo visto prima, che crea infiammazione, infiammazione cronica, i fattori di crescita, quali sono i fattori di crescita? La carne e i latticini, ma noi abbiamo bisogno del latte della madre, poi non abbiamo più bisogno del latte, è così della carne, la carne la possiamo mangiare certo, ma non mangiare di continuo come si mangia noi la carne e quindi i fattori di crescita è il pH acido, il pH acido, il pH del nostro organismo quando è acido crea appunto le molecole delle anomali e le cellule anomali appunto prendono vantaggio. Poi la formazione delle poliammine, noi la carne è quella che sta molto più a contatto con le nostre mucose intestinali e quella che putrefai crea le poliammine e le nitrosamine che sono precursori, che sono catalizzatori del tumore. E poi ecco come nasce un tumore, la cellula impazzisce e crea sempre di più praticamente cellule figlie. Andiamo avanti perché è tardi, quindi che cosa crea il tumore, il fumo, l'alcol, il sole, i raggi ultravioletti, quindi radicali lì, l'alimentazione, l'obesità, la sedentarietà, l'inquinamento atmosferico, agenti chimici, fisici e agenti infettivi. Ecco come cresce il tumore, vedete dalla cellula normale che è in una posizione G0 attraverso i fattori di crescita va in una stadio G1 e qui si riproducono l'acido ribonucleico, va nella fase S, poi il DNA dove si replica il DNA, fase G2, la sintesi di nuove proteine, quindi la fase M. La fase M è la fase della cellula madre che si scinde in cellule figlie e poi attraverso l'angiogenesi che è la vascularizzazione delle nuove cellule tumorali va per tutto il corpo e crea le metastasi. E allora come possiamo fermare, sappiamo che la chemioterapia va a fermare la fase M, ma ci sono i nutraceutici, ci sono le piante medicinali come isotiocianati che sono i broccoli, l'antocyanidine che vanno a bloccare la fase G2, quindi interrompono il processo cancerogenico e attraverso poi possono bloccare l'angiogenesi, bloccano la fase G2 e l'angiogenesi, poi c'è l'epigallo-catechina-gallato che nel tè verde, la curcumina della curcuma, il ratrolo dell'uva rossa, del vino rosso, la genisteina della soia, il licopene, del pomodoro, tutti i composti solforati, aglio e cipolla e la polidatina che vanno ad eliminare queste cellule attraverso l'apoptosi, l'apoptosi e il suicidio di queste cellule tumorali. Ecco questa è la via che prende una cellula, o la via dell'infiammazione e quindi della replica della cellula anomala, oppure la via dell'apoptosi e quindi l'eliminazione della cellula anomala. Ecco, la prevenzione del tumore, mangiare frutto e verdure a meno di 500 grammi al giorno diminuisce il tumore, questo lo dice l'European Prospecting Investigation to Cancer and Denutrizione, diminuisce il tumore del 25%. Quindi questi qui li abbiamo già visti prima, le terapie antitumorali sono la chemioterapia, la radioterapia, l'immunoterapia e la fitoterapia. Ecco la chemioterapia utilizza due sostanze fondamentalmente per i tumori dell'ovaio, dell'endometrio, della mammella che sono il carboplatino o il cisplatino insieme al tassolo, il tassolo che è una pianta tra l'altro e crea però degli effetti collaterali sappiamo di spenea, broncospasmo, resistenza farmacologica eccetera eccetera. L'immunoterapia invece c'è gli anticorpi mondiali che sono dei farmaci intelligenti che vanno a combattere soltanto le cellule tumorali, non toccano le cellule buone per cui non si ha gli effetti collaterali però si può usare soltanto nel melanoma, nei tumori al polmone, i reni, linfomi, i mielomi e le ocemie, ancora non per gli altri tumori. Quindi questo è stato poi pubblicato sull'Anciano e andiamo avanti, quindi le piante medicinali nella terapia integrata tumorale possono dare prevenzione, integrazione e cura. E noi l'abbiamo vista e quelle che hanno dato risultati scientifici che sono state scientificamente provate che sono l'artemisia annua, la curcuma, l'aloe e il poligono o la polidatina giapponica. L'artemisia annua che è una pianta che veniva utilizzata nella malaria e si è visto che le sue molecole, cioè l'artemisinina, l'artemisone e la didoartemisinina sono delle molecole antitumorali, citotossiche nelle cellule tumorali. Sono stati fatti degli studi clinici e si è visto, sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che è un antimalarico ma anche un antitumorale. L'artemisinina e i flavonoi in sinergia fra di loro creano un'inibizione di questo fattore E2F1 che è un fattore di trascrizione e tumore polmone. Questo è stato dimostrato all'Università della California mentre l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha detto che gli esperimenti in vivo e in vitro hanno dimostrato che l'artemisinina è citotossica nelle cellule tumorali. La curcuma ha un'azione sia antiossidante che antiinfiammatoria, molto importante e nel tumore della mammella per esempio diminuisce il tumore della mammella attraverso la down regulation, cioè riduce l'effetto simile estrogenico e inibisce la COXE2 che è l'infiammazione, appunto la cicloossigenasi 2. La prevenzione è tutta del tumore del colon perché inibisce la neurotensina che è un ormone intestinale che aumenta le cellule tumorali inibisce per cui diminuisce le cellule tumorali del colon tumore della cervice e protegge dai virus papillomavirus queste tutte sperimentate dagli istituti universitari quindi la curcumina rende più efficace la chemioterapia perché sensibilizza ancora di più le cellule tumorali alla chemioterapia quindi viene associata oggi negli istituti di oncologia curcumina cisplatino infatti la curcumina agisce come dimissione del fattore KB per la diminuzione della crescita del tumore alla testa mentre il cisplatino agisce nell'arresto della fase M e quindi la curcumina ha dei problemi di assorbimento infatti si assorbe male e si trova in commercio col pepe nero e il pepe nero è un irritante per la prostata e per gli emorroidi per cui è meglio utilizzare noi l'abbiamo sperimentata con la lecitina di soia che è un emulsionante l'anile emulsiona e la fa assorbire molto meglio la dose è raccomandata da 400-600 mg al giorno senza effetti collaterali e dobbiamo dire anche che poi abbiamo l'aloe arborens che è molto importante perché c'è uno studio proprio dall'università di Padova sul neuroblastoma infantile è stata dimostrata molto valida l'aloe, questa aloe emodina che ha un'attività citotossica poi questo poligono cuspidatum che cos'è? che è un resveratrono ma molto più potente dell'uva rossa e del vino rosso è un'azione antiputagene, antitumorale e soprattutto aumenta diminuisce la chemioresistenza quindi è un'associazione polidatina farmaci convenzionali vedete che in oncologia vengono utilizzate le piante medicinali la fitonutrizione è importante perché al malato oncologico non gli viene mai detto che cosa deve mangiare mentre il malato oncologico deve mangiare dei pasti brevi molto sostanziosi per non perdere il peso e quindi è molto importante utilizzare anche questi nutraceutici che vanno a bloccare il tumore a lungo andare perché vedete la curcuma, lo zenzolo, il cardamolo il basilico, l'aglio, il timo, il rosmarino il chiodo di garofano vanno tutti, sono antinfiammatori, antiossidanti e vanno a bloccare la fase delle cellule appunto tumorali così il chiodo di garofano, il basilico questi sono studi non ve lo dico così tanto per dire ci sono studi che adesso devo farla breve ecco il paziente oncologico quindi piccoli pasti mangiare poco spesso e utilizzare dei ginseng, acidi, carnitina aminoacidi in modo da aumentare la sua resistenza alla fatica e combattere nausea e vomito con lo zenzero che combatte nausea e vomito le conclusioni sono queste la fame nel mondo oggi si parla tanto nel 2050 saremo molti di più di oggi e ci sarà il problema del cibo perché c'è il problema del cibo? perché oggi il 70% della terra coltivabile viene utilizzata per nutrire gli animali per mangiare la carne voi sapete che un pasto di 2000 calorie a base di carne servono 108 metri quadri di terra per lo stesso pasto con le stesse calorie servono a base di cereali e legumi servono solo 3,3 metri quadri di terra voi pensate quindi se noi diminuiamo la carne se in tutto il mondo si riduce la carne e i latticini noi potremmo sfruttare il 70% di più della terra coltivabile e diminuerebbe anche la deforestazione tutti vegetariani non è detto si può mangiare anche la carne ma anche perché la carne poi crea le poliammine crea le nitrosammine crea quindi i tumori è un catalizzatore di tumori quindi meno ne mangiamo e meglio stiamo quindi medicina integrata io faccio parte della medicina integrata perché oggi i protocolli dell'oncologia i protocolli della nostra medicina allopatica sono insufficienti oggi tutte le medicine le migliori dall'agopuntura al queen gong a tutto quello che ti pare devono essere assieme tutti assieme per vedere l'uomo a 360 gradi non per vedere il sintomo perché curare il sintomo si è visto che è insufficiente e poi soprattutto il paziente il paziente oncologico ha bisogno di essere seguito ha bisogno di certezza ha bisogno di aumentare l'autostima ha bisogno di aumentare diciamo così la sua fiducia quindi la medicina va umanizzata sempre di più perché il medico deve essere sempre più umano quindi umanizzare la medicina quindi è chiaro evidente che è importante che si crei la cultura della salute che si elimini la cultura della malattia e soprattutto che si veda l'uomo al centro del nostro pianeta al di là degli interessi delle lobby delle multinazionali in modo da creare sempre più una cultura critica sulle nuove generazioni in modo da creare una cultura dell'ambiente l'agricoltura biologina più ecosostenibile la cultura della salute per una società sana di prevenzione perché è una società che non fa prevenzione è una società che vale poco e quindi eliminare la cultura della malattia le cattive abitudini perché l'uomo può creare la malattia ma può creare appunto anche la salute e pensate che io credo che questo sia non sia come voi pensate e che mi direte che sia un'utopia per me un'utopia concreta grazie grazie Pietro è un grande protagonista grazie capisco anche la risposta di prima perché ovviamente quando le cose da dire sono tante e soprattutto sono anni che lavora su questo campo io lavoro come lui ci sono altre persone protagoniste qui che lavorano da tanti anni sull'ambiente della salute e c'è molta ignoranza quelle che adesso si chiamano fake news noi possiamo chiamarle semplicemente ignoranza pregiudizi miti metropolitani su tutti questi argomenti e cambiare lo stile di vita sicuramente è fondamentale come insegna la medicina cinese per cui chiamo la dottoressa Chiara Cusa ha il microfono medico agopuntrice fa parte della Discopnei siamo a sottoscritto cioè discipline corporee della Pnei della SIPNE la società italiana del ciclo neuroendocrinico di immunologia e Chiara a te tutto Scusate no pensavo di essere l'ultima per cui sono stata presa da lì come ok allora ho ascoltato sono arrivata ieri e arrivando ieri ho ascoltato qualcosa già da ieri sera poi tutta stamattina e poi oggi pomeriggio e allora fino all'ultimo mi sono messa a ritoccare quello che avevo programmato di dire perché mi rendevo conto di essere un po' fuori luogo perché avevo è sempre difficile per un medico parlare a non tecnici perlomeno per me perché io sono medico e poi ho questa passione per la medicina cinese la medicina integrata e la Pnei mi ha integrato in realtà però ho sempre questo linguaggio tecnico allora voi mi avete un po' aiutato a riconvertirmi per cui se c'è qualcosa me lo dite ma anche il titolo l'ho cambiato il titolo era dolore cronico un approccio sistemico una cosa molto tecnica in realtà è diventato ecco riconvertire il dolore cronico cioè abbiamo una persona che sta male e ha un dolore cronico abbiamo il nostro pianeta che sta male ed è un problema cronico possiamo ecco riconvertirlo allora il dolore cronico è stato descritto nel già parecchi anni fa come un'esperienza quindi un'esperienza sensoriale che può essere associata a danno ma può anche non essere associato a danno viene descritta come tale e come esperienze caratteristiche una è una componente esperienziale chi ha dolore cronico voi lo conoscete è una persona che dice sto male catastrofizza rimugina ripensa ragiona si sente inadeguato viene ferito facilmente ha un comportamento passivo vi chiede sempre troppe cose un lagnoso fondamentalmente questo stesso comportamento questo aspetto esperienziale è sempre associato ad un concetto di componente biologico che è quello che noi medici misuriamo cioè noi medici misuriamo l'infiammazione l'attivazione del sistema immunitario guardo all'artrite reumatoide sì o no quanto ha di VES quanto ha di PCR allora quello è un malato vero chi invece ha un dolore cronico ma ha solo la componente esperienziale noi tendenzialmente facciamo fatica ad inquadrarlo non abbiamo lo strumento per poterlo aiutare e quindi in realtà l'ospedale senza dolore la cura del dolore cronico in realtà deve aver presente entrambi gli aspetti perché se no la figura del fibromialgico è infatti la figura che sfugge di più all'aspetto della medicina ufficiale e i medici e la medicina ufficiale ha bisogno di invece tutto l'altro mondo che valuta le esperienze e che approccia in un altro modo quindi c'è tutta un'eco riconversione globale alla base del dolore cronico secondo l'adigma PNEI c'è il concetto di noxapatogena qualunque essa sia sia psicogena sia fisica reale che crea un circolo vizioso disfunzionale abbiamo parlato di economia circolare e la PNEI parla sempre 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 e noi come nostro corpo siamo fatti di circuiti e quindi un circuito vizioso disfunzionale che disarmonizza il sistema nervoso autonomo disarmonizza il sistema endocrino disarmonizza il sistema immunitario e crea infiammazione e quindi abbiamo il cortisolo alto le citochine l'adrenalina non adrenalina abbiamo tutto un sistema con un circuito disfunzionale oppala ho fatto danno scusate scusatemi ok vabbè no ma non mi agito più non mi agito più tanto ok tenete presente che però questi circuiti sono i circuiti della sopravvivenza e quindi cosa succede quando una persona ha alterati i circuiti della sopravvivenza così come avviene in una condizione di stress cronico questa persona muore magari non muore fisicamente però se riesco a farla andare avanti però ha tutto un quadro di fatica di movimento non ha energie non riesce a proporsi nella vita non riesce ad e quindi è comunque una persona che non riesce a sopravvivere bene dove la sopravvivenza non è sopravvivo ma la sopravvivenza ci ha permetto di evolversi per cui dobbiamo riuscire dobbiamo vediamo andiamo avanti senti io non riesco ok l'altro concetto invece che è la nostra sfida rispetto a dolore cronico subisco il concetto è riuscire a passare a un paradigma di adattamento positivo cioè troviamo alcune persone che hanno la schiena storta portano il bastone stanno male hanno avuto dei lutti eppure invece sono perseveranti hanno entusiasmo hanno ottimismo hanno degli obiettivi hanno degli scopi nella vita questi sono stati studiati questi pazienti si chiamano pazienti eccezionali e sono un 15% naturalmente nel gruppo della popolazione e queste persone hanno effettivamente nonostante le patologie minori livelli relativi di infiammazione e più capacità di interoccezione dell'altro gruppo dei pazienti qual è allora la nostra sfida questo è sviluppato delle capacità di resilienza ma la resilienza allora è fissa cioè abbiamo solo questo 15% dei pazienti oppure possiamo attivarla e questa è la sfida dei terapeuti allora ci sono alcune persone che di fronte a un episodio di dolore artrite o emotivo o lutto attivano delle risorse di resilienza e lo fanno naturalmente e quindi hanno degli stati positivi e raggiungono la guarigione la sostenibilità affrontano la vita si crescono imparano apprendono e ci sono invece altre persone che hanno dei tratti di vulnerabilità sono anticamente e possono riguardare anche traumi infantili allora queste persone non hanno le capacità di affrontare bene un trauma fisico psichico morale e quindi sviluppano dolore sviluppano catastrofizzazione non sono capaci di attivare resilienza allora la nostra sfida è è possibile riconvertire ecco riconvertire recuperare l'ecologia di questa persona la diagnosi di dolore è complessa complessa non vuol dire complicata complessa non vuol dire semplice complessa vuol dire che io capisco il dolore solo se lo guardo globalmente complessa vuol dire che io sì come medico posso guardare i parametri biologici del dolore vedere la localizzazione della lombalgia posso vedere la frattura posso vedere il trauma posso vedere le piccole parti ma se non considero anche dal punto di vista biologico cosa mangia questa persona come dorme questa persona che tipo di comportamento ha psicologico in famiglia che tipo di lavoro ha ha certezze per il lavoro è stato licenziato tutti questi fattori sono in realtà importantissimi perché se noi quando una persona arriva con dolore cronico ci fermiamo a dire ho la lombalgia e diamo la pillola per la lombalgia facciamo quello che diceva il relatore di prima che spegniamo la luce del cruscotto però lasciamo tutto e quindi abbiamo bisogno di una visione d'insieme che obbliga a collaborare ciascun professionista con altri e obbliga la persona a mettere in pista dei lavori globali allora il concetto che se vogliamo avere un'eco riconversione dobbiamo approcciare il sistema in maniera complessa e con un sistema di cure abbiamo bisogno di lavorare in gruppo e abbiamo bisogno di attivare più trattamenti però con un'unica idea perché se no facciamo caos e andiamo uno contro l'altro l'idea è invece avere un paradigma teorico unitario e quindi da ho la lombalgia e prendo l'aulin devo passare a una terapia integrata interdisciplinare personalizzata non ho scritto multidisciplinare ho scritto inter perché ci deve essere un'interfaccia fra i preuti e col paziente e questo la letteratura dice che è lo sfida del futuro la sfida della nuova medicina e quindi da un approccio che veniva chiamato lineare a un approccio sistemico complesso possiamo chiamarlo circolare come l'ecologia circolare di cui si è parlato ieri la storia della medicina nell'antichità ci porta alla medicina cinese un unico paradigma più tecniche all'interno di un approccio circolare ok quindi i modelli antichi ci sono e noi ci stiamo riscoprendo le medicine tradizionali ad esse con una logica occidentale qual è la nostra attenzione che queste non è che le dico io ma sul British Medical Journal del 2017 si dice che questa è la cura dove dobbiamo comunque prendere in considerazione se vogliamo trattare il dolore cronico perché la medicina complementare oramai ha raggiunto delle evidenze significative quindi dobbiamo cambiare la dieta toccare con delle manipolazioni fare delle tecniche mente corpo e utilizzare dei sistemi di cura olistici e uno di questi è la medicina cinese ma poi tutte io conosco questa però ogni terapeuta poi ha la propria formazione e queste non sono teorie cioè questo per esempio è uno studio fatto in due settimane di ricovero in un reparto di medicina interna e medicina integrata quindi le persone con dolore cronico venivano ricoverate per due settimane gli veniva fatta una terapia complementare con tecnicamente corpo e voi vedete il grafico vedete che alla primo è all'inizio dello studio alla seconda x è la dimissione dopo 15 giorni e la seconda è un follow up di 6 mesi allora a 6 mesi le curve scendono ancora quindi vuol dire che quei 15 giorni hanno innescato quello che noi chiamiamo un circuito virtuoso una ecologia circolare dell'individuo positiva e attenzione è vero cambia il dolore ma soprattutto cambia la resilienza emotiva e quindi la persona è emotivamente più solido e riesce ad affrontare meglio la situazione che magari non è cambiata ma il dolore è meno e oltretutto questo dà dei vantaggi economici ma quale terapie ovviamente abbiamo visto prima la dieta sulla dieta si è scritto tantissimo la dieta cambia il dolore la percezione del dolore e cambia la resilienza questo ovviamente la dieta di oggi ci porta alla globesity come veniva definita e uno sono gli omega 3 gli omega 6 quindi gli alimenti riducono l'infermazione riducono il dolore l'olio l'olio d'oliva 4 cucchiai d'olio d'oliva al giorno equivalgono a un farmaco antinfiammatorio da farmacia allora cosa conviene fare mi prendo 4 cucchiai d'olio d'oliva o prendo una pasticca oppure posso decidere posso fare una domanda io al momento che ho un nostro tecnico noi non sono tecnica però su questo dovete darmi voi quello buono solo una domanda poi domani riparleremo noi facciamo scusa mi è stato interrotto perché manca Maurizio del Ministro che doveva intervenire quindi insomma sta combattendo la sua malattia e quindi qualche giornata non è sempre bene però è un lottatore da tanti anni e lo salutiamo e lui tra le altre cose ha dato vita alla cooperativa strizza i semi e stasera potrete cenare se l'avrete sentito con il fritto ma il fritto che viene proposto qui è fatto con l'olio di girasole e l'olio di cardamo alto leico cardamo è un'estravergine è una nuova tecnica con cui stanno operando anche sugli oli di questo genere niente era solo per lui ovviamente noi non l'avremmo proposto se lui ed altri che hanno fatto questo percorso non ci abbiano indicato che fosse una strada molto positiva sul piano del piacere è una grande scoperta perché abbiamo un grande successo la sera con questa proposta e la gente va a letto e non sta male dopo la frittura e questo è un'altra cosa importante però era una domanda scusa è stata l'occasione per fare questa spigolatura così ricordo anche Maurizio che così mangiamo consapevoli mangiamo consapevoli ci diminuisce il dolore però le sostanze possiamo decidere di mangiarle oppure di applicarle perché per esempio la foglia di verza rimedio della nonna messa sulle articolazioni equivale a una pastiglia di tachipirina allora anche qui decido di mettermi la foglia di verza o mi mangio la pastiglia di tachipirina ed è pubblicato sul British Medical Journal cioè allora la cosa curiosa che le evidenze ci sono ma se noi non le conosciamo e ma va avanti di tre va bene va bene ok perfetto quindi è pubblicato e ovvio ci sono tanti alimenti antinfiammatori quell'NFKB è un fattore pro-infiammatorio che si attiva a livello del nucleo allora ovvio che se io ho questa alimentazione ho una striscia rossa e mi infiammo se ho un'altra alimentazione con tutta frutta e verdura io mi disinfiammo e c'è tutta una cultura di nutrigenomica si chiama per cui ogni alimento è conosciuto per quali effetti ha sul genoma e quindi modula l'epigenoma quindi sull'alimentazione si è scritto di ogni e l'alimentazione riduce il dolore ma più che l'attenzione al principio che poi ci porta a sostituire il cibo con la pillola che contiene quel rimedio per me è importante il regime dietetico perché per esempio un regime dietetico vegetariano riduce il dolore in persone artritiche in maniera significativa per cui diminuisce il dolore dell'artrosi vedete le strisce azzurre sono il risultato dello studio riduce la BES riduce la proteina cirreattiva ma addirittura cambia il microbiota intestinale allora prendo anche qui il farmaco o prendo il probiotico in farmacia o cambio l'alimentazione allora le nostre scelte dipendono da quanto sappiamo altri nutrimenti il sorriso mai dimenticare di nutrire l'altra parte del nostro corpo non di solo pane diceva qualcuno ok è importantissimo perché il nostro corpo quando è in pericolo attiva dei meccanismi di protettivi protettivi quindi si contrae si chiude aumentano i dolori ma invece se vogliamo ridurre il dolore dobbiamo ridurre il pericolo e una delle strategie più belle è il sorridere ma sorridere da soli no sorridere in compagnia aumenta la soglia di dolore riduce lo stress e l'infiammazione ok tra l'attività al cibo e alla compagnia serena è importante fare esercizio però voi avete una persona che ha un dolore cronico e dice quale esercizio a me fa male allora anche qui è vero una persona con dolore evita il movimento perché il movimento glielo acutizza allora dobbiamo cambiare un altro tipo di intervento dobbiamo fare la striscia azzurra del cerchio cioè fare quella che si chiama integrazione senso-motoria è quello sotto è quella l'integrazione senso-motoria bisogna aumentare la consapevolezza aiutare le persone a ritrovare la propria consapevolezza ma senza giudizio ok allora questo lavoro in realtà si chiama pratiche psicocorporee proprio attivo meditative e ce ne sono una serie oppure le tecniche corporee manipolative queste aiutano le persone con dolore cronico a riappropriarsi a riappropriarsi del proprio corpo e a ripristinare dei meccanismi di sensibilizzazione allora quali terapie matuali? il tocco gentile anche qui guarda che bella anche qui il concetto è che quando un terapeuta tocca un corpo deve trattarlo con questa tecnica e quando un paziente è a contatto di un terapeuta deve sentirsi accolto in questo modo perché in questo modo abbassa le difese e attiva tutti quei meccanismi di interruzione dell'infiammazione ed ecco riconverte il sistema endogeno le tecniche mente corpo sono tante ci sono delle tecniche puramente meditative e ci sono delle tecniche che vengono chiamate meditazioni in movimento una di queste è il qigong di cui poi si parlerà ancora sono importantissime le tecniche meditative vengono fatte in posizione ferma le tecniche di meditazione in movimento associano in movimento la meditazione hanno dal mio punto di vista il grande vantaggio di allenare il corpo insieme alla mente e altre cose e questo è uno studio sulla meditazione pura non ci sono ancora sufficienti studi sul dolore cronico e il qigong e le tecniche di movimento mentre sulla meditazione terapia cognitivo comportamentale o sulla mindfulness ci sono molti studi anche in questo caso otto settimane di training due mesi due mesi follow up guardate un po' 52 settimane un anno ok allora questo studio ci dice che a distanza di un anno le persone che hanno fatto quelle otto settimane di training in mindfulness hanno sviluppato criteri di resilienza e questi criteri sono superiori alle 52 settimane allora il concetto adesso è e qui chiudo quale terapia facciamo perché ce ne sono veramente tante che possiamo proporre e l'obiettivo non è di dire la mia è superiore alla tua ma il discorso è quello di cercare di personalizzare sul paziente sulla base delle nostre conoscenze avendo però un sistema di applicazione che sia il più possibile rispettoso e comune del linguaggio di funzionamento del nostro corpo e qui vi ringrazio grazie Chiara fantastico grazie ci sono tanti tanti spunti che Chiara mi ha fatto venire uno fra l'altro è di tenere presente che macrocosmo e microcosmo sono in perfetta relazione le leggi che vanno all'interno del corpo umano si ritrovano nell'universo e viceversa e noi non siamo nell'universo noi siamo l'universo cosa significa vi faccio un esempio più quotidiano quando voi siete in fila non siete in fila ma siete la fila quindi noi siamo l'universo noi non stiamo inquinando intorno a noi noi stiamo inquinando internamente a noi e guardando la luce della play la play fa vedere chiaramente in maniera occidentale ciò che nello yoga o nella medicina cinese si è sempre letto si è sempre enunciato che noi siamo un sistema un sistema in cui il sistema il sistema nervoso quello endocrino e immunitario continuano a interagire e sulle quali si può intervenire con l'alimentazione con l'ascolto con ciò che beviamo come parliamo con il movimento quindi è vero che ciascuna di queste metodiche può intervenire c'entra comunque anche la persona che fa da filtro e quindi magari si avvicina più facilmente attraverso la porta dell'alimentazione o la porta del Qigong o la porta del movimento va bene adesso ho il piacere di chiamare qui la maestra Marisa Bocca maestra sinologa maestra di Qigong che ha una quantità di riconoscimenti internazionali importanti e che ci parlerà di un'esperienza fatta recentemente buonasera a tutti sì sono ho cominciato come sinologa in realtà aspetta fatemi imparare subito questo perché se no faccio la stessa cosa qua a destra per andare avanti ok perfetto vediamo se ci riusciamo perfetto allora sì arriverò a parlare del progetto in ospedale io lavoro con il Qigong a tempo pieno insegno da più di un quarto di secolo meno di Alfredo sicuramente ma abbastanza ad aver avuto tante esperienze in giro per il mondo giro per congressi continuamente ho portato un estratto di quella che è la mia preparazione questo comincia non so quanti di voi non sapevo a chi mi rivolgevo quando ho deciso di venire quando sono stata invitata grazie ad Alfredo e quindi devo partire da un presupposto e un postulato della medicina cinese il Qigong è un ramo è una branca della medicina cinese importante come già stato detto prima è stato accennato al Qigong in precedenza e la medicina cinese parte proprio dal postulato che siamo energia e l'energia sottile circola all'interno del corpo soprattutto possiamo attingere a questa energia attraverso i meridiani principali quindi dei percorsi dei vasi lungo tutta l'altezza la lunghezza del corpo e la buona salute è data dalla fluidità della circolazione energetica e dalla scorrevolezza ma anche dalla qualità di questa energia che scorre mentre lo squilibrio come è stato anche detto in principio dal primo relatore è determinato è quello che determina la malattia quindi lo squilibrio dell'energia all'interno del corpo può determinare nel momento presente o lontano nel futuro il manifestarsi di una malattia tutte le terapie della medicina cinese io ho scritto MTC perché oggigiorno è stata chiamata MTC medicina tradizionale cinese ma è la diciamo la canonizzazione della medicina moderna in Cina dopo l'avvento l'arrivo degli occidentali e dopo l'avvento di Mao al potere la medicina cinese tutta presuppone l'esistenza e la circolazione di energia e quindi il lavoro della medicina cinese è tutto basato sulla circolazione dell'energia l'alimentazione le erbe la farmacopea i trattamenti più specifici di agopuntura coppettazione massaggio tecniche specifiche di Qigong di lavoro energetico così come la pratica stessa del Qigong lo stesso concetto lo ritroviamo in tutte le culture in realtà tutte le culture antiche parlavano di un'energia ma un modo diverso il prana in India il mana nelle Filippine il pneuma nell'antica Grecia parliamo della stessa cosa sono tutte finestre come diceva anche la relatrice precedente tutte finestre sullo stesso panorama siamo tutti esseri umani abbiamo delle culture delle crescite delle consapevolezze delle esperienze differenti per cui ci affacciamo dalla stessa casa noi vita vita umana essere umano ci affacciamo da finestre diverse e vediamo lo stesso panorama da punti di vista differenti l'obiettivo lo scopo e l'oggetto di ricerca e di lavoro è esattamente lo stesso per tutti cos'è il Qigong? il Qigong è nato si è sviluppato migliaia di anni fa i primi documenti scritti risalgono almeno duemila anni ma di più perché sono stati ritrovati reperti come gusci di tartarughe utilizzati nella 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 cultura oracolare o ossa di animali con delle tecniche di Qigong già incise o degli indiogrammi che mimavano o che spiegavano delle funzioni energetiche di movimenti o di posture il nome è variato nel tempo ovviamente anticamente i nomi erano legati a tecniche specifiche oggigiorno ci ritroviamo il nome Qigong che è entrato in uso dagli anni 50 perché per abbracciare un campo di lavoro vastissimo che va dal lavoro su di sé quindi tecniche di postura di respirazione di meditazione tecniche di movimento come tecniche statiche tecniche di pura visualizzazione quindi quel che noi chiamiamo meditazione come tecniche più marziali e quindi di movimento di attacco difesa con lo scopo di sviluppare la consapevolezza in tutte le direzioni all'interno del corpo e dell'animo le applicazioni di lavoro per cui sono differenti interno ed esterno possiamo lavorare su di noi come possiamo lavorare sull'altro con l'altro con le altre persone quindi il Qigong può essere l'approccio al mondo esterno ecologia è fondamentale ma perché nella stessa pratica come nella vita di tutti i giorni noi ci rendiamo conto di cosa significa stare all'aperto vivere all'aperto e rapportarci all'aperto ci sono volumi interi in cinese non tradotti ma volumi interi su un campo di Qigong che è chiamato il Qigong dell'albero la pratica scegliendo l'albero giusto a seconda della patologia della problematica e della situazione momentanea emotiva psicologica scegliendo l'albero giusto la pratica cambia enormemente l'effetto così come possiamo utilizzare la fitoterapia materialmente possiamo utilizzare un lavoro con l'energia delle piante il principio attivo energetico delle piante è quasi miracoloso io non parlo di miracoli perché il miracolo è una manifestazione della potenzialità naturale di madre natura e del corpo e della funzionalità del corpo quindi miracolo vuol dire finalmente tornare naturali le scuole anche di Qigong sono molte sono correnti filosofiche differenti in Cina non esistevano non sono mai esistite religioni come le intendiamo noi non c'è un dio nessuno ha mai avuto un dio ma ci sono delle figure di riferimento come esempi come possono essere i santi per noi sono esempi di crescita spirituale di crescita di consapevolezza di livello di consapevolezza non più di questo questo è una rappresentazione che io porto sempre l'ho presa da un testo di studio di medicina cinese di Qigong questo viene da un volume di studio specifico sul Qigong che rappresenta come un albero la medicina cinese con le radici e i rami le radici sono tutti i principi teorici della medicina cinese gli stati energetici i cinque elementi gli otto principi lo yin e lo yang il triplice riscaldatore i livelli di energia all'interno eccetera eccetera come rami e quindi come manifestazione della medicina abbiamo dei rami principali delle branche della medicina come un ramo l'agopuntura un ramo la fitoterapia le erbe un ramo il massaggio cinese e il quarto ramo il Qigong medico la terapia di Qigong è uno dei rami principali della medicina cinese molto molto purtroppo sottovalutata nel nostro mondo perché in Italia è arrivata l'agopuntura molto tempo fa relativamente molto rispetto agli altri paesi europei è arrivato il massaggio cinese e anche lì si conosce il Tuena che è solo uno dei rami del Qigong del massaggio cinese perché sono vari il Qigong medico è pressoché sconosciuto si è arrivato a conoscere il Qigong qualcuno attraverso le arti marziali qualcuno attraverso lo studio dell'agopuntura ma mai approfondito fino in fondo perché dal punto di vista delle arti marziali apparentemente era noioso il Qigong perché stai fermo ti muovi lento mentre le arti marziali sono appariscenti c'è più movimento c'è più applicazione c'è più dimostrazione di sé nel mondo eccetera eccetera il Qigong era lento quando io ho iniziato il Qigong nel 88 e ho cominciato a volerlo studiare approfondire i miei compagni i miei amici mi dicevano ma che fai è noioso non farai una lira in questo campo e dal punto di vista invece del medico era un di più certo è carino è bello è rilassante però era una cosa rilassante e bassa il campo del Qigong in Cina era uno dei campi principali perché come diceva prima il relatore precedente anticamente anche in Cina i medici i consigli che davano erano prima di tutto cioè erano nel tempo quelli che sono stati visti prima prima di tutto cambiamo lo stile di vita e vediamo cosa succede se non basta cambiamo l'alimentazione e vediamo cosa succede se proprio non basta facciamo agopuntura o diamo delle sostanze dei decotti o tisane oppure delle pasticche delle compresse di erbe o di quel che è la farmacopea cinese ma il Qigong era nello stile di vita una parte dello stile di vita era come approcciarsi al mondo esterno nel movimento nello stare nel rapporto tra quiete e movimento quindi nella sveglia durante la mattina e andare a dormire la sera ci sono delle fasi graduali in cui la pratica del Qigong naturalmente in Cina fa parte dei momenti di equilibrio e di cambio tra i momenti più yin del sonno la notte i momenti più yang della dinamica e poi via via dal momento più yang della giornata e del lavoro dire di nuovo attraverso il tramonto e il raggiungimento e l'ottenimento della quiete per prepararsi al sonno quindi faceva parte di un ciclo di vita quotidiana e come tale faceva parte delle prime prescrizioni mediche risistemare e riequilibrare lo stile di vita che era diverso anche da stagione a stagione diverso da stagione a stagione diverse tecniche da mattina pomeriggio e sera diverse tecniche per diversi stati emotivi diverse tecniche per le età delle persone le fasi di vita e di vitalità dell'individuo qui andiamo un pochino più nel dettaglio questa parte chiude almeno due anni del corso di operatori di Qigong abbiamo i principi fondamentali della pratica del Qigong che cos'è il Qigong il Qigong è contemporaneamente armonizzazione del corpo del respiro e della mente vuol dire che è una meditazione a tutti gli effetti una meditazione proattiva la chiamo io nel senso che ha uno scopo ha una motivazione un'intenzione una direzione un impegno una volontà un lavoro continuativo per arrivare da qualche parte così è il Qigong soprattutto quello medico abbiamo il principio di terra cielo terra uomo noi siamo tra cielo e terra quindi era dato per scontato che il praticante di Qigong dovesse praticare tra cielo e terra cioè in piedi i piedi ben radicati a terra la centratura il radicamento fondamentale nella vita a tutti i livelli e la testa in cielo mentre al malato si concedeva di praticare seduto se convalescente o addirittura sdraiato se proprio malato non ce la faceva stare in piedi vedete tra i principi fondamentali mi rifaccio alla relatrice precedente il sorriso il sorriso è fondamentale quando io ho iniziato il Qigong con il mio maestro in Cina avevo vent'anni mi sono affacciata lì all'albero dove insegnava lui sotto un foglio solo un foglio mi disse senti l'energia di questo foglio su quel foglio c'era scritto quell'ideogramma lì siao che significa ridere sorridere e in base a come io sentivo quell'energia mi vengono i brividi ancora adesso in base a come sentivo quell'energia lui sapeva che disposizione d'animo che situazione interiore avessi qual era la mia salute fisica e quant'altro andiamo avanti perché io chiacchiero chiacchiero non abbiamo il tempo questo direi che lo potremmo il Qigong è una delle due radici delle ginnastiche europee non si sa nessuno lo dice sappiamo della radice greca le olimpiadi greche non sappiamo della radice cinese in realtà ci sono dei testi illustri nel 1700 è stato tradotto il testo di Kung Fu cinese all'epoca era un testo di Qigong dei monaci in Bons Taosh erano i preti taoisti queste traduzioni vennero portate in occidente lo svedese per Henrik Ling fondò la moderna ginnastica scusatemi e creò il suo istituto Bernadotte in Svezia lì si insegnarono da allora quattro tipi di ginnastica educazione fisica militare medica estetica la ginnastica medica di Ling era completamente basata sulla teoria di energia vitale e basata su quei principi del Qigong che poi purtroppo nella ginnastica europea si persero il principio del vitalismo lo tradussero all'epoca dell'energia vitale si persero perché qui era più importante l'apparenza della salute nel movimento e quindi il muscolo la potenza la flessibilità la velocità l'apparenza fisica esteriore di salute quindi l'apparenza della salute piuttosto che la salute vera e propria ovviamente non è solo leggenda curiosità ed etnica la pratica del Qigong ma c'è tutto un enorme mole di studi e di ricerca e c'è tantissima ricerca scientifica c'è purtroppo purtroppo per noi che non lo capiamo io sì da sinologa ma la maggior parte del mondo occidentale no la maggior parte di questa ricerca è in cinese ma dagli anni cinquanta soprattutto tutto in poi c'è una mole di ricerca immensa ho fatto una ricerca per l'ospedale dove lavoro ed è veramente tantissima il percorso il mio percorso ve l'ho detto l'ho saltata quella slide è uguale perché tanto abbiamo poco tempo il percorso è iniziato quando vi ho detto prima con quel foglio è iniziato nel 90 e dal 94 insegno e lavoro a tempo pieno con il Qigong dopo anni di esperienza ho creato l'associazione nei DAO la via anteriore che è l'associazione di cui vedete il logo lì su in cima è un'associazione specifica e basata completamente esclusivamente sul Qigong in Italia in genere sono associazioni che sono basate su arti marziali e Qigong o medicina cinese e Qigong o tecniche corporee fisiche e manuali io ho voluto spingermi oltre e fermarmi sul Qigong uno perché era la mia formazione due perché volevo proprio un'associazione dedicata allo studio e alla ricerca sul Qigong e questo ho iniziato a fare negli anni per cui ho cominciato sì con la formazione ma soprattutto con ricerca sperimentazione con un progetto vedete dal 2011 seguo tuttora un progetto per supporto di cocainomani lavoriamo con il Qigong e la psicoterapia insieme in una fase residenziale di un progetto importante dal 2014 nell'ospedale Gemelli c'è un centro di terapia integrata in sonologia per pazienti oncologici tra le terapie integrate c'è il Qigong io sono la responsabile del Qigong lavoriamo insegnando a pazienti e operatori sanitari pratiche di Qigong tecniche specifiche per aiutare le pazienti a superare gli effetti collaterali della chemioterapia aiutare a superare la diagnosi aiutare a superare tutto quello che è effetti collaterali della diagnosi e della malattia stessa ma soprattutto purtroppo tanti pazienti lo dicono il tumore non si sente le terapie si quindi aiutare a sostenersi durante le terapie e ho creato e portato avanti i progetti per insegnanti e studenti nelle scuole adesso stiamo portando avanti uno in una scuola in un liceo scientifico perché penso che curare è bello ma prevenire sarebbe molto più bello e poi c'è tutta un'enorme rete di collaborazione in giro per il mondo che Alfredo ha avuto modo di toccare con mano perlomeno di saggiare attraverso il simposio dove ci siamo ritrovati con relatori da tutto il mondo degli Stati Uniti Canada, Cina, Giappone Hawaii 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 fa scena e anche paesi europei bravissima bravissima e ognuno ha del suo perché ognuno poi mescola nel suo sentire nelle sue esperienze è anche la propria cultura la propria visione quella finestra specifica di visione del panorama di cui parlavo prima per cui si aprono più finestre c'è più esperienza e c'è più possibilità però questo non è mai capito da tanti perché non ci si ritrova insieme questa è l'esperienza del Policlinico Gemelli ce l'ho due minuti solo per uno ok andrò veloce sono dati ma sarò velocissima dati e rilevazioni tra gennaio e febbraio 2018 con la scusa che c'è stata una tesi di un master c'è un master al centro di terapia integrata un master universitario perché il Gemelli fa parte dell'Università Cattolica di Roma un master universitario sviluppato tutto sugli effetti del Qigong in pazienti oncologiche sotto cura al momento abbiamo qui sono incluse sette lezioni ma il progetto sta andando avanti e finisce a dicembre quindi i dati aggiornati li avrete l'anno prossimo se ci rivediamo basato su sette lezioni 33 pazienti e 5 familiari perché il progetto era anche per parenti delle pazienti abbiamo raccolto 85 questionari l'età media di 52 anni da 33 anni a 73 anni queste sono le emozioni ci siamo basati su qualcosa perché non potevamo basarci su tutto sono le emozioni prima e dopo la lezione abbiamo messo emozioni di ogni genere non le abbiamo divise tra positive e negative in modo da essere più neutre possibile e abbiamo però visto la differenza tra prima della lezione e dopo la lezione prima della lezione l'emozione principale era ovviamente la preoccupazione trovate qualche emozione positiva perché secondo noi il Qigong era consigliato come terapia all'interno dell'ospedale questo dava già delle emozioni positive quindi le pazienti arrivavano anche con delle emozioni positive di speranza di fiducia di curiosità e di autocontrollo ma la preoccupazione guardate qua la prima e guardate che cosa succede dopo se riesco a farvelo vedere ecco le emozioni dopo la lezione la preoccupazione cercatela un po' dove è arrivata è in fondo 3 lì prima dello 0 la maggior parte di quelle negative sono 0 addirittura cioè noi riusciamo con una lezione perché sono questionari prima della lezione questionari dopo la lezione a togliere con tutte le pazienti quasi la totalità delle pazienti quella che è l'emozione brutta terribile e come abbiamo detto prima di per sé emozione che nutre la malattia e che non aiuta la terapia stessa abbiamo leggerezza gratitudine fiducia pagamento allegria forza ottimismo entusiasmo coraggio autocontrollo determinazione che cosa può aiutare di più le terapie e i medici di un paziente con questa disposizione d'animo anche ad affrontare le terapie più dure e più invasive per l'animo perché sentirsi continuamente con diarrea nausea mancanza di equilibrio ossa fragili respiro corto depressione è terribile più della malattia stessa tanti pazienti abbandonerebbero spesso la terapia proprio perché stavano meglio quando avevano solo il tumore in corpo è paradossale ma è così il tumore si fa sentire solo quando è allo stadio terminale prima i dolori non ci sono non ci sono questi problemi soprattutto un tumore come il seno che è apparentemente periferico la terapia è invadente i capelli le donne non hanno più i capelli non hanno un seno se non due a seconda della malattia cioè si trasformano le persone quindi questo distrugge molto di più della terapia è impressionante quello che può fare la terapia di passaggio queste sono le parole delle pazienti dammi un attimo per leggerle perché diminuzione scomparsa delle vampate supporto per gestire far emergere e riconoscere le emozioni e tensioni più energia tono dell'umore migliorato migliorate le pubbliche relazioni sono uscita dal guscio del dolore che mi circondava essendo nel periodo della chemio poi ho continuato perché mi dà sollievo un po' in tutto respirazione più profonda ho scoperto il diaframma c'erano tre punti esclamativi dietro questo sciolto il nodo in gola ansia più consapevolezza calma scoperta all'energia anteriore scoperta del proprio corpo certa del contributo fondamentale al mio percorso di guarigione resistenza alle terapie recupero energetico consapevolezza e contrasto dei sintomi secondari mi fa molto piacere questo è importante mi fa molto piacere condividere con altre donne una sala senza preoccuparmi di essere malata perché questo è stato il risultato di inserire il qigong in ospedale una cosa è persone che cercano fuori il qigong allora si ritrovano sole le uniche malate in una sala di persone che magari vogliono solo fare un'esperienza e crescere in qualche maniera la loro consapevolezza in ospedale dà modo di essere normali di praticare insieme senza sentirsi ancora più differente dagli altri le tecniche integrate mi hanno riavvicinato all'ospedale ad oggi lo ritengo davvero un luogo di cura rispetto e considerazione questo credo che sia la spiegazione più queste sono alcune immagini della pratica in ospedale le persone sono sempre di più i pazienti sono sempre di più ma sempre di più quelli che accettano di praticare il qigong questo è il mio sogno nel cassetto con questo chiudo prevenire è meglio è molto più facile che curare quindi il mio sogno sarebbe cominciare a insegnare il qigong e in tanti in tantissimi tutti in rete collegati perché questo ci renderebbe più forte all'interno delle scuole prima che escono fuori le malattie piuttosto che dopo grazie grazie Marisa è un sogno comune che ci mette proprio in stretta connessione Francesco prego Francesco Schiraldi si occupa di apprendimento motorio e attività motorie per la salute buonasera l'abbiamo avuto già l'anno scorso e lui lavora con un sistema di un mio caro amico e lo sta portando anche lui a dei livelli veramente speciali si e siamo in più di uno ognuno che lo applica in un campo diverso poi magari verso la fine vi faccio anche qualche esempio intanto grazie della presentazione grazie per avermi invitato ringrazio anche i relatori di prima per avermi aperto un po' la strada visto che si è parlato di stile di vita e il movimento rientra totalmente in quello che è lo stile di vita e voglio essere sincero io non ho ancora occupandomi di movimento adesso mi riferisco a quello che può essere uno stile di vita attivo rispetto a uno stile di vita sedentario e sinceramente io non ho ben capito cosa vuol dire stile di vita attivo cosa vuol dire stile di vita sedentario questa è una domanda che ce l'ho già da parecchio anzi forse è quella che poi mi ha avvicinato alla ricerca di tutta una serie di cose però quanto e come devo muovermi per considerarmi uno che segue uno stile di vita attivo penso che siamo d'accordo che lo stile di vita attuale medio di oggi non è non è quello ok 30 minuti di camminata al giorno almeno si è uno dei consigli più comuni è sicuramente un buon consiglio poi arriva la gente come mi è già successo che l'ha seguito dopo un mese aveva le ginocchia distrutte e ha dovuto fermarsi magari l'aveva iniziato per altre ragioni per il sistema cardiocircolatorio eccetera lascio un attimo qui questa domanda se nel frattempo qualcuno ha un'idea su cos'è stile di vita attivo come quantità e come qualità di movimento io sono molto disponibile ad ascoltare allora sì sì ma io sto puntando e sto premendo eccolo allora dobbiamo preoccuparci un po' sì secondo me nel senso che ogni tanto provo a immaginarmi fra dieci anni vent'anni come potremmo stare se non correggiamo delle tendenze io non faccio crociate contro lo sviluppo riconosco i meriti di tutto quello che è lo sviluppo tecnologico la ricerca continua di comodità e di distrazioni c'è però un problema molta di questa ricerca ad esempio va nella direzione di quella di farci risparmiare movimento farci risparmiare tempo o non costringerci a andare da qualche parte per fare quella cosa comodissimo a volte indispensabile ci salva però ci porta a muoverci di meno e caratterizzato da immobilità per immobilità e non intendo ovviamente la stessa cosa intendo se fino a dieci anni fa il consiglio era cammina 30 minuti al giorno che comunque è sufficiente adesso perché poi nel resto della giornata dieci anni fa si facevano cose un po' diverse da oggi non c'era ad esempio tutto il tempo che c'è adesso impiegato ad esempio sullo smartphone in questa posizione che tra l'altro adesso stanno scoprendo una fortissima relazione fra i dolori della zona lombare dovuti alla posizione dello smartphone quindi intendo proprio immobilità nel senso di stare fermi immobili al computer allo smartphone per periodi lunghi di tempo quindi il movimento oltre a diminuire poi è spesso relegato a uno strumento per migliorare l'estetica o la performance e sempre meno invece in un'ottica più di funzionalità cioè per fare qualcosa per andare a fare qualcosa o per svago questo ha delle conseguenze grazie anche se allora intanto vado avanti ok vabbè vado avanti no 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 indietro indietro almeno di due allora vabbè la domanda che si vedeva sulla slide dopo era qual è il movimento adatto a noi in realtà anche quanto era la domanda iniziale cosa vuol dire stile di vita attivo qual è molto più indietro se è andato avanti ok quale movimento è adatto a noi ok quindi tutta la mia ricerca iniziale per poi arrivare per fortuna a incontrare questo amico che abbiamo in comune con Alfredo Massimo Mondini e che mi ha fatto vedere questo movimento arcaico era qual è il movimento adatto a noi e ci sono due episodi che mi aiutano a spiegarmi meglio ricordo una lezione sull'attività motoria in età evolutiva in cui si parlava che uno dei problemi dei bambini di oggi è che giocano meno e questo ha tutta una serie di conseguenze ok si sa a me è venuta automatica la conclusione di dire bene quali sono le strategie per fare in modo che questi bambini tornino a fare quello che facevano prima se stavano meglio così e invece si andava in cerca di sistemi di attività motoria organizzata in palestra a scuola per rimediare a questo problema e mi sentivo anche un po' ingenuo a dire ma troviamo strategie perché tornino a giocare invece di pensare strategie nuove e poi un altro momento importante è stato quando lavorando proprio con i bambini mi sono messo lì e ho osservato un'ora di gioco libero e ho tenuto conto della quantità di movimenti della qualità anche dei movimenti della varietà dei movimenti che facevano grazie e salivano 10 20 30 40 100 scatti 100 cambi di direzione 100 salti in un'ora rotolamenti e poi dentro di me pensavo ok un'ora di attività motoria organizzata pensavo al percorso magari che gli si fa fare in due file dicevo quanti salti fanno come li fanno e lì per un istante mi sono sentito totalmente inutile e ho detto qui forse gli faccio più un piacere a loro se li osservo e basta e non intervengo perché fanno molto di più per conto loro e questa cosa mi ha completamente affascinato perché loro spontaneamente facevano già tutto quello che serviva ok è vero servono un ambiente sicuro servono gli stimoli adatti eccetera magari oggi se gli si fa scegliere potrebbero essere abituati a stare più in casa eccetera però lasciamo un attimo da parte questo e così ho iniziato a interessarmi a tutto quello che è il movimento più naturale appunto e ci sono un sacco c'è un autore in particolare che mi piace tantissimo che si chiama Peter Gray è uno psicologo che insegna al Boston College e ha scritto un sacco di roba si trova anche su internet e lui lì citava un libro che poi sono andato a leggermi e in un popolo di raccoglitori cacciatori i bambini facevano nove ore di gioco al giorno libero quindi per conto loro di cui almeno un terzo era gioco motorio puro tre ore tre ore qualcosa e in più c'era tutto il movimento di un villaggio eccetera se prendiamo questo come riferimento per stile di vita attivo siamo nei guai le conseguenze di questa diminuzione di gioco libero poi sono state indagate oltre alla diminuzione delle capacità motorie coordinazione capacità condizionali eccetera anche in un aumento di psicopatologie in età infantile ok quindi questo era tutto quello che mi frullava nella mente poi sono andato a un corso con Massimo Mondini e io pensavo anche di essere prestante atletico sciolto in particolare io ci tenerevo molto alla scioltezza a un certo punto ci ha proposto di fare una corsa in discesa in un bosco lasciandoci andare quindi aumentando gradualmente la velocità ovviamente ognuno va al proprio livello e lì in un primo momento ho detto oddio pensavo di essere molto meglio e ho fatto vari tentativi a un certo punto prendo velocità poi perché ai corsi poi si fa gradualmente ci si riavvicina a un modo di muoversi ok non è che uno si butta e infatti non si fa mai male a nessuno a un certo punto prendo velocità e dico questa è un'altra cosa questo è un altro modo di muoversi e sale dentro qualcosa che è la stessa cosa che fa che non può far impedire a un bambino di ridere quando corre avete presente un bambino quando corre non può trattenere il sorriso un adulto che fa jogging di solito non ha la faccia sorridente ok ok quindi lì ho detto ho trovato ho trovato una cosa che che può cambiare davvero qualcosa e allora poi ho iniziato in realtà sto dicendo tutt'altro ok ho cercato di dare una definizione un po' anche mia in base alle mie esperienze sul movimento arcaico poi vi dico anche in pratica cosa si fa allora secondo me il movimento arcaico offre un'opportunità per ridare la qualità ai nostri bisogni e desideri secondo la nostra natura per migliorare la qualità della vita vi ho detto che mi occupo di attività motoria per la salute allora un'opportunità perché ovviamente uno lo vede può scegliere se continuare a farlo non è automatico non basta un incontro però praticandolo può cambiare qualcosa si basa su quelli che sono i movimenti nostri quelli su cui ci siamo evoluti ok quindi risponde a tutta una serie di nostri bisogni il nostro piede è fatto per lavorare su terreni regolari non su terreni piatti ad esempio se noi lo ricondizioniamo e lo rimettiamo su terreni regolari sta meglio sta meglio tutta la risposta poi posturale è un metodo che permette di riconnettersi con l'istinto e risvegliare i sensi ecco questa è una cosa che adesso probabilmente con la continua distrazione anche che ne so il non per il non pensare anche solo accendere la tv o mettere su qualcosa sul telefono eccetera si sta un po' assopendo invece ricordate l'immagine di prima di correre giù da da un bosco lì c'è un'esplosione di sensi e ci si riconnette con con l'istinto che è quella parte che che sa anche cosa è cosa è buono è quella che ti fa dire no adesso mi alzo e esco invece che sto a casa e mi anestetizzo con una serie in pratica in pratica si si accompagnano le persone a riacquistare tutti quelli che sono i movimenti qui chiamati gesti archetipici tipici dell'essere umano prima ho detto la corsa in discesa ma anche la corsa la corsa normale la vabbè la camminata il lancio il salto e tutta un'altra serie di movimenti e si fa in un modo seguendo quello che è diciamo il naturale apprendimento come funziona il naturale apprendimento quindi come vi dicevo prima corsa in discesa prima volta oddio c'è qualcosa che non va nessun problema si rifà si rifà si rifà si rifà in tanti modi può sembrare banale ma in realtà il sistema di apprendimento funziona così se noi andiamo troppo subito per apprendere un gesto nell'imitazione di un gesto preciso senza concederci di variarlo e di esplorare una quantità di gesti anche simili anche se non perfetti otteniamo un risultato inferiore quei bambini che vi dicevo prima io poi l'anno dopo dopo aver conosciuto il movimento arcaico li ho lasciati ancora di più giocare liberamente oppure creavo io dei contesti dove poi potessero esprimersi tutti questi bambini l'anno dopo a settembre no tutti però moltissimi mi hanno riferito a essere migliorati tantissimo nella loro pratica sportiva e noi non avevamo fatto niente del loro sport avevamo fatto tutt'altro avevamo esplorato quella che è la mappa generale del movimento quindi è vero che c'è movimento e movimento questi è sempre camminare ma penso che sarete d'accordo con me sul fatto che hanno un effetto diverso questo vabbè l'ultimo era la foto di uno stiracchiamento con sbadiglio e poi era l'ultima ok non ne ho trovate foto di esseri umani che sbadigliano e si stiracchiano in come quel gatto lì allora secondo voi hanno lo stesso effetto questi cioè vi invito a provare allora a volte siamo convinti di fare qualcosa che ci è utile di muoverci ma non abbiamo idea di quello che davvero potrebbe essere se riscopriamo quello che è il modo naturale di muoverci concludo dicendo che per chi vuole questa cosa si può fare adesso se si va sul sito si trovano anche sul sito di movimento arcaico punto it ci sono gli incontri anche che tiene Massimo c'è una forza Massimo avete anche la pagina facebook sì o anche direttamente sul sito e poi ci sono tutta una serie di professionisti in Italia che la stanno poi applicando a campi specifici qui a Padova ad esempio su le problematiche respiratorie o su altri tipi di disagi anche a Bologna molto sulla fisioterapia su persone con Parkinson c'è chi la utilizza in psicoterapia ad esempio e tutti hanno lo stesso effetto cioè andiamo a coltivare quella che è la base diciamo ok una volta che quella base cresce ed è più forte tutto quello che è il resto anche il problema per cui la persona è venuta viene ridimensionato poi è ovvio collaborando in sincronia anche con altri questo ha un effetto ancora maggiore direi che ho detto tutto grazie Francesco alla fine quando il tempo diventa tiranno e sono costretto per moderare un po' tutti comunque il tempo è stato all'incirca al di là di due minuti uguale per tutti io vi do appuntamento per domani sera per la prossima incontro di Eco Salute domani mattina dalle sette e mezzo all'ottie e mezzo ci sarà la terza giornata del del Qigong che facciamo qui la meditazione l'automassaggio e il drago che nuota stamattina avevamo un bel gruppetto e domani mattina dalle dieci alle dodici facciamo Tai Chi aperto a tutti invito direttamente per chi ci sta guardando a partecipare qui al Fenicia Green Energy Park di Padova dalle dieci alle dodici venite a praticare lo stile di Tai Chi vostro o venite a provare chi ancora non ha mai imparato con gli insegnanti che saranno presenti grazie a tutti buonasera domani grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito fino a questo momento qui dal canale web di Eco Futuro dalla pagina di Jacopo Fo a questo punto le nostre trasmissioni streaming sono terminate l'appuntamento è per domani per la prima sessione del sabato questo sabato di Eco Futuro da Padova dal Green Energy Park della Fenice la prima sessione ci occuperemo di spolverarci non di spolverarci con le spazzole ma di eliminare le polveri sottili dalle nostre città la sessione la sessione sarà moderata da sottoscritto Sergio Ferraris che vi dà appuntamento domani mattina dalle 10 sul canale web facebook anzi di Eco Futuro sempre dalla pagina di Jacopo Fo state con noi infatti ciao 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 Grazie a tutti